Potenza Controllo Elevate le vostre prestazioni Al massimo Redline Le impugnature della Malco L'apertura delle impugnature degli strumenti serrati della linea Redline della Malco Ottimizza la potenza del sistema costituito dai collegamenti tra la testa e l'impugnatura Fornendo un raggio di azione più congeniale alla mano dell'operatore I contorni morbidi, dotati di inserti sovrastampati in gomma antiscivolo sulle impugnature Assicurano che si adattino naturalmente e perfettamente al vostro modo di lavorare Funzionamento con una sola mano Che in virtù di un sistema di chiusura a progettazione unica Lascia sempre una mano libera per fissare il pezzo Elevate le vostre prestazioni Al massimo Le impugnature Redline sono disponibili sulla gamma completa degli strumenti più rinomati di Marco Per lavorazioni di esterni ed installazioni di sistemi di ventilazione e di riscaldamento Li troverete in vendita presso tutti i centri di fornitura e i rivenditori di prodotti da costruzione Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!